Salve signor consul, sono Yusuf, veli di Ali Bash al-Qaramali. La conosco perfettamente, principe. Perdona mi ha spassato, non ti ho ricevuto come si doveva. L'ho già intravista alla festa del trono nell'ultima occasione. E già allora la sua arroganza era evidente. E mi avevano già detto che era il figlio minore di Ali Bash al-Qaramali. Innanzitutto signor consul, le prego di accettare il nostro scusi. Pare il Malta è temente quegli aree già avuto da parte da guardiani del castello. A presto. 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 Grazie a tutti